Per noi in Regione Emilia Romagna non c'è la nuda tecnologia, non c'è la tecnologia per la tecnologia, nemmeno cadiamo in tentazioni neopositiviste, ovvero il progresso va bene comunque. Per noi l'importante è che la tecnologia abiliti le capacità e le potenzialità delle persone, dipendenti pubblici, cittadini, perché tutto questo ci aiuti a risparmiare, inquinare meno, spostarci meno, non sprecare tempo ed essere più orientati al cittadino. AFTER rappresenta tutto questo, fa tappa in tante città, siamo arrivati a Bologna, siamo partiti da Reggio Emilia, siamo passati per Modena, speriamo che questa esperienza, il confronto tra città, tra famiglie e cittadini, tra imprese vada avanti per trovare nuove soluzioni e fare dell'Emilia Romagna un posto in cui investire, con la propria azienda, con la propria famiglia che crescano tutti, insomma, nessuno rimanga indietro. Ci occupiamo anche di anziani, di persone non abilitate, perché così quando digitalizziamo i servizi si chiama pane internet questo progetto, tutti possono accedervi. Grazie.